Ciao, buongiorno, sono Nicola da Castellabate. Sono l'ambasciatore del Cilento, una persona che ama il suo territorio, una persona che lo conosce approfonditamente e a cui piace condividere il tesoro del proprio territorio con i suoi ospiti. Questa è la mia passione, ma la passione può arrivare fino a un certo punto e poi dopo serve un po' anche la professionalità, il migliorarsi, il formarsi ed ecco che ho avuto la fortuna in questa settimana di conoscere concetta, concetta d'Emma, una persona straordinaria con cui siamo entrati subito veramente in amicizia, ma soprattutto lei mi ha fatto comprendere grazie alla sua professionalità, al suo amore per il suo lavoro, quanto è importante approfondire certi aspetti nella formazione e lei mi ha aperto veramente un mondo. Quando ho contattato lei, quando siamo conosciuti, io non sapevo cosa mi sarebbe potuto capitare, però ero pronto ad imparare, a capire, a comprendere certi meccanismi e lei è stata capace veramente di aprirmi la mente, di darmi delle informazioni, delle nozioni che già da adesso mi hanno permesso veramente di vedere la mia attività, questa attività che faccio con passione, però in modo molto più, come dire, anche professionalmente parlando in un modo migliore. Quindi io ringrazio veramente concetta per l'aiuto, per il tempo che mi ha dedicato, perché veramente abbiamo lavorato quasi notte e giorno e quindi sono veramente felice, contento ed entusiasta e quindi spero veramente di far frutto di tutto quello che lei mi ha donato, mi ha dato per poter proseguire questa mia attività ed aiutare i miei ospiti nel modo migliore ad accoglierli e a condividere con loro le bellezze del mio territorio, del Cilento. Quindi vi saluto, grazie ancora concetta per quello che mi ha dato e spero di rivederti presto per nuovi nuovi progetti. Ciao, grazie. Grazie. E quali sono stati, raccontaci un po', i momenti più da wow, diciamo proprio di rivelazione che ti hanno colpito particolarmente? Diciamo che c'erano alcune cose che io magari non davo peso, facevo, però grazie al concetto ho capito che invece veramente c'è tutto un mondo che può, come dire, aiutarci a migliorarci e quindi lei mi ha dato un po' la consapevolezza, la conferma di certi meccanismi. Ma cosa posso dire, per esempio, sul marketing, cioè per me il marketing era una cosa che veramente, come dire, a cui non riuscivo neanche ad immaginare, la comunicazione, l'importanza della comunicazione mi ha fatto capire che se qualche cosa tu non la comuni che nessuno può sapere, né chi sei, né cosa fai, né dove sei, quindi l'importanza anche della comunicazione. E poi veramente il vedere anche lei veramente partecipe, proprio come se il progetto fosse suo e quindi questo mi ha dato ancora più, come dire, anche un po' la garanzia di avere a che fare con una bella persona, una grande professionista, quindi veramente sono contento. Grazie Nicola, a te. Grazie a te.